Un festival green nel pieno rispetto dell'ambiente, un festival fitto di ospiti internazionali, un veicolo di attrattiva turistica sempre più nel cuore della città. Trovata la definitiva collocazione alla rocca malatestiana, Fano Jets by the Sea ha già conquistato il pubblico proveniente da ogni parte d'Italia e dall'estero con un ricco programma di concerti, eventi e iniziative che coinvolgeranno fino a domenica gli appassionati di musica. Organizzato da Fano Jets Network in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Fano e con la direzione artistica di Adriano Pedini, il festival ha confermato la novità dello scorso anno, il Jets Village, un luogo ideale per unire l'evento alla città e per raccontare il progetto Green Jets. La costruzione di un village così dedicato all'ambiente, dedicato alla sostenibilità, dedicato ai giovani, dedicato a tutte quelle cose positive che ci sono, ci è sembrato una cosa buona e l'abbiamo iniziato lo scorso e quest'anno l'abbiamo ancora ampliato. Tanti gli ospiti internazionali che si alterneranno fino al 29 di luglio. Sì, abbiamo avuto una carrellata di musicisti straordinari, tanto per citarne alcuni, Paolo Fresu, ma ieri sera di Bridgewater che abbiamo dovuto estendere la platea perché qualcuno è rimasto pure fuori, quindi di grande livello. Ricordo anche l'inizio con Brad Meldau che è stato un concerto straordinario, ma il pianista Vigi Ayer, insomma dei grandi musicisti, come deve essere naturale per un festival che vuole proiettarsi verso l'Europa. Cercate di valorizzare anche i giovani musicisti emergenti. Sì, quello dei giovani musicisti emergenti è un nostro pallino. Ci sono due sezioni importanti, una quella della Young Stage, nella Rocchetta, dove presenteremo, dove stiamo presentando i musicisti italiani, musicisti di talento. L'altra parte è invece questa possibilità, abbiamo dato la possibilità alle esperienze didattiche del territorio, che si stanno formando ormai da tanto tempo, di presentare i propri lavori qui al Jazz Village, all'aperitivo. La 26esima edizione di Fano Jazz by the Sea, ancora ricca di iniziative e concerti, si concluderà il 29 luglio con un doppio appuntamento, al Teatro della Fortuna con Nonotac Live, una performance multimediale, e alla Golina del Furlo di Acqualagna con una grande festa. Ci saranno 4.000 persone sul prato a godere di un concerto che è straordinario, perché è una band che viene dalla Guinea, Baci Soco, lui lo chiamano il Jimi Hendrix della Cora, e comunque è una musica che fa ballare, è una musica coinvolgente, è una musica che insomma degna per concludere un festival, che è un festival, quindi una grande festa della maniera.